Un importante momento di condivisione delle scelte delle città slow che hanno voluto proporre a una delegazione molto nutrita, con grande soddisfazione e grazie al lavoro di Nicola Caputo e di Andrea Cozzolino abbiamo avuto la possibilità di interagire con numerosi parlamentari europei e a cui abbiamo sottoposto la nostra idea del nuovo patto dei sindaci. Il patto dei sindaci per il benessere e lo sviluppo ecosostenibile. Non basta più avere una politica comunitaria che per settori individua e tematismi individua degli obiettivi e cerca di raggiungerli in un tempo più o meno lungo, abbiamo bisogno di un approccio sistemico. Le città slow sono un esperimento oramai consolidato che hanno voluto nella giornata di oggi raccontare questa esperienza e soprattutto proporre un approccio diverso anche per gli investimenti dell'Unione Europea che non devono vedere più la crescita come l'elemento per il quale lavorare. La crescita dovrà essere l'effetto dell'applicazione del nostro modello, del modello di città slow che in modo sinergico mette insieme i vari tematismi e li fa diventare l'opportunità per il futuro, perché al centro delle nostre politiche di gestione della città devono esserci i cittadini e il loro benessere. La crescita sarà il risultato. Un appuntamento importante anche dal punto di vista operativo, abbiamo tracciato una roadmap molto stringente, a marzo un ulteriore incontro operativo e poi a giugno presenteremo la nostra ipotesi di lavoro del nuovo patto dei sindaci per il benessere, lo sviluppo equo e sostenibile. Grande soddisfazione della nostra associazione soprattutto per la bellissima partecipazione delle reti nazionali europee a cui va il ringraziamento del mio personale ma di tutta l'associazione di tutte le singole città. Proprio grazie alla forza che abbiamo saputo raccontare potremmo raggiungere risultati importanti. Adesso non ci resta che lavorare a questa nuova idea, a questa nuova idea di Europa che parte dall'atomo più piccolo, dalle città e dei territori per poi diventare la vera e propria politica europea che mette al centro la cultura dello stare insieme e forse fonderemo davvero gli Stati, gli Stati Uniti d'Europa.